ciao a tutti e bentornati sul canale oggi ritorniamo con una nuova fotocamera per la quale devo ricordarmi insomma di cercare di mantenere lo sguardo piuttosto dritto e con un nuovo appuntamento con le beauty express mi vedete oggi infatti in questa versione aperitivo in spiaggia perché sono appena da poco insomma tornata dal lavoro ho deciso di dedicarmi di dedicare un pochettino di questo pomeriggio alla registrazione di qualche beauty express e questo sarà il motivo per cui probabilmente mi vedrete in qualcuno dei prossimi video vestita insomma nella stessa maniera ma bando alle ciance innanzitutto ben trovati e benvenuti ai numerosi nuovi iscritti a grande richiesta oggi nelle beauty express parliamo di un testa a testa e più precisamente di un testa a testa tra contorno occhi per cui si sfidano il mio contorno occhi del cuore bio e carube con una new entry non troppo new entry perché lo sto già testando dopo questo sera contorno occhi di zaffir organica allora iniziamo parlando del mio contorno occhi del cuore che avrete già visto in molti video con la sua bella confezione elegantissima da 30 ml il beccuccio dosatore questo molto comodo la consistenza del prodotto questa qua ne ve ne faccio vedere poco perché è un gioiello un gioiellino e non mi va di di sprecarlo insomma 30 ml di prodotto per un costo che si aggira intorno ai 48 euro quindi un contorno occhi che possiamo definire a tutti gli effetti luxuri ma che vale ogni centesimo che costa come vi ho già detto più di una volta vi consiglio di farvi il salvaganaio se iniziate avere i primi segni di espressione se siete un po agé ma anche se semplicemente siete del motto meglio prevenire che curare in tutti questi casi questo contorno occhi farà su di voi la differenza allora caratteristiche attivi principali sono innanzitutto i semi di carube i semi delle carube come dice il nome della stessa azienda della quale vi consiglio insomma di consultare il sito fatevi un giro per vedere quali sono i loro prodotti la loro filosofia gli ingredienti che utilizzano che sono ingredienti a chilometro zero della sicilia allora ottimo contorno occhi perché allora innanzitutto è l'anti age per eccellenza contenendo appunto semi di carube che sono un attivo squisitamente idratante insomma che ha delle spiccate caratteristiche di idratazione e che quindi vanno a riempire a quindi a tenere la pelle sicuramente idratata e tonificata e vanno a riempire il contorno occhi con tutti i suoi segni di espressione sappiamo che è la zona del viso più delicata in cui la pelle è molto sottile quindi è la prima zona del viso a subire i segni i segni aggressivi diciamo del tempo del sole e così via insomma è la è la zona del nostro viso che per prima inizia di invecchiare grazie agli attivi contenuti in questo fantastico prodotto si riescono assolutamente a contrastare i segni i segni del tempo sia appunto per quanto riguarda il lungo periodo appunto per i motivi che vi ho detto ma i segni del tempo che riguardano anche il breve periodo perché contenendo anche caffeina e l'idrolato di fior d'aliso va a agire anche nell'immediato su quelle che sono le borse le occhiaie i gonfiori insomma tutte quelle quei segni quei gonfiori quei fastidi che si hanno dopo una giornata stancante dopo uno stress emotivo e così via insomma se non si fosse capito il mio contornocchi del cuore questo prodotto è stato anche riformulato qui lo vedete diciamo nella sua vecchia formulazione che oltretutto di cui non vi ho detto il profumo ma posso definire sicuramente in odore la dolcissima daniela storacci di bio et carube sa del mio amore per i suoi prodotti e da carinissimamente mi ha inviato un'altra confezione della nuova formulazione di cui volentieri vi andrò a parlare appena insomma poi avrò finito questa e l'avrò testata per benino insieme ai campioncini di altre referenze che insomma sono veramente curiosa poi di andare ad utilizzare appunto come vi dicevo un pool di attivi quelli che ho citato ma contiene anche mi viene in mente l'olio di rosa moscheta l'olio di avocado insomma tutti ingredienti tutti attivi che fanno sì che sia un vero concentrato insomma anti age voto voto sicuramente 10 e lode ho provato tantissimi contorno occhi ma questo sicuramente ha conquistato il podio del mio cuore dalle caratteristiche un pochettino diverse perché non è propriamente un contorno occhi ma è un siero contorno occhi quindi ci troviamo di fronte ad un prodotto che ha una texture sicuramente più leggera è questo prodotto di zaffer organica in questa bella confezioncina vi faccio vedere con quella sua rotellina così si vede già come fatto questo è proprio un gel trasparente profumazione gradevolissima di rosa fantastico questo è un prodotto fantastico leggerissimo veramente piacevole da utilizzare con il caldo io lo tengo nel frigo quindi la rotellina la sua rotellina d'acciaio rimane insomma naturalmente fredda e quindi già questa da sola ci aiuta a rinfrescare e decongestionare la zona perioculare attivi principali di questo contorno occhi di cui siero contorno occhi di cui non vi ho detto il prezzo si aggira intorno ai 14 euro e 90 sono l'acido ialuronico e soprattutto la bava di lumaca quindi un altro prodotto scusatemi che può essere definito un anti age per eccellenza appunto tutti conosciamo i benefici e dell'acido ialuronico e della bava di lumaca ma anch'esso è un prodotto che possiamo definire di cui insomma possiamo descrivere un beneficio anche nell'immediato perché contiene ingredienti che hanno appunto una spiccata azione decongestionante aiutata sicuramente dal packaging ma appunto fa sì anche questo prodotto fa sì che la la nostra zona segnata del contorno occhi vada a rilassarsi quindi vedendo immediatamente diminuiti tutti i segni di espressione possiamo dire che questo ha un effetto lifting quasi immediato perché io noto immediatamente che mi va a riempire a piallare insomma ea levigare la zona del contorno occhi in combo sono sicuramente fondamentali e sono eccezionali perché contengono sì attivi diversi ma che tra loro possono essere complementari questo eccezionale ma anche l'altro se vogliamo dire come come base trucco perché appunto è un gel molto leggero che si va ad assorbire subito e vi va a preparare insomma la pelle del contorno occhi a ricevere insomma poi il make up che ci andrete ad applicare due prezzi diversi per due contorni per due contorno occhi diversi tra di loro ottimi entrambi ve li consiglio entrambi sono due prodotti che promuovo e che sono entrati nel mio cuore io vi ringrazio per aver ascoltato questa pillola di belletta questa beauty express e naturalmente ci vediamo alla prossima non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete ancora dei nostri un grosso bacio e a presto buona serata a tutti ciao 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 ciao